Oggi melanzane farcite con prosciutto formaggio gratinate al forno sono buonissime. Prendete una melanzana e la tagliate a fette sottili, poi la grigliate su una piastra calda per circa un paio di minuti e condite le fette con sale e un goccino d'olio. Poi le passate nell'uovo sbattuto e nel pane grattugiato e le farcite con il formaggio e il prosciutto cotto. Chiudete a fazzoletto, mettete uno stuzzicadenti, posizionate sulla leccarda e via in forno con un goccino d'olio fino a quando il formaggio è sciolto e provatele perché sono buonissime.